ciao a tutti ragazzi una breve merenda qui sulla statua guardate che bellezza con kentucky fry kitchen non si fanno queste cose però questa è l'accoglienza che abbiamo a piazza delle erbe ma che bellezza è una piazza col mercato con tanti prodotti è bellissimo a tutti i nostri spettatori sono stati e anche un po' di più 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 ragazzi da piazza delle erbe tutto vi salutiamo mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale youtube giovanni saldi ma soprattutto venite a visitare la splendida verona grazie